Ciao cari amici di youtube, visto che molte persone in questo periodo si stanno lamentando del family friendly che ormai ha attaccato youtube Vi spiegherò dei semplici passi nel caso fosse dei gamer Come trattare argomenti family friendly anche in ambito di gioco Ciò vuol dire che tutte le noiose, inutili attrezzature che avevate un tempo adesso non vi servono più Quindi niente gamepad, niente cuffie, niente pc da 1400€, niente schermo da 400€ Niente tastiera delle msi con i led inclusi Anzi vi basterà un pc dell'anni 80, una tastiera e un mouse a rocco e anche uno schermo del 1080 Innanzitutto dovete sapere che adesso per registrare il gameplay non servono più i giochi violenti di una volta come Warzone E ciò vuol dire che... Salve a tutti ragazzi e ragazze umani di sesso non prestabilito e non capito Oggi siamo su Hello Kitty The Game che come potete vedere è un bellissimo gioco Fate così anche voi e anche voi potete avere il vostro canale youtube di gaming e family friendly